Benvenuti tutti a Forza Italia Ciberspazio Ciberspazio è la giurisprudenza mondiale, la cibernetica Tutti quelli che sono sul cellulare, sul telefonino, sul computer Quello tutto si chiama ciberspazio, noi siamo là Benvenuti a Forza Italia Ciberspazio Oggi un programma un po' diverso, oggi parleremo delle 10 migliori auguri Per il nostro presidente, signor Silvio Berlusconi, in questo momento di difficoltà Per quelli che è la prima volta che siamo qua, questo è Forza Italia Ciberspazio Noi siamo più di un anno in attività, noi lavoriamo nel mondo ciberspaziale E la giurisprudenza che sta dietro il computer, il cellulare, l'iPad Tutta questa attività elettronica crea una localizzazione specifica, geografica E nel ciberspazio Motivo numero uno, un giudizio mio Dove io sono la vittima, io sono stato rubato online nel 2018 E la polizia ha un problema serio perché sono persone che sono in diversi punti del pianeta E' molto difficile da lavorare Di quella della battaglia di Forza Italia Ciberspazio Che è quella di regolarizzare il mondo ciberspaziale Va bene, andiamo qua a questo momento E' molto difficile, ma non è drammatico Il sia Berlusconi è già diventato meglio Lui sta avendo dei guidati migliori possibili Ha una resistenza molto grande E siamo tutti molto positivi che lui continua con la sua guarigione Che ha iniziato abbastanza bene Ma qua abbiamo fatto una selezione dei 10 migliori auguri Di guarigione al signor Silvio Berlusconi D'accordo alla sua personalità e alla realtà di questo momento nell'Italia Numero 1 Nonostante il mondo sia pieno di sofferenza E' anche pieno della possibilità di superarla Una frase di Ellen Keller La seconda qua La vita è un ciclo continuo Sempre in movimento Se i bei tempi passano Passeranno anche i momenti difficili Questo è un proverbio indiano Prossimo Quando tutto sembra andare male Ricorda che gli aerei decollano contro vento Non con il vento a favore La parola di Henry Ford E quello è gli aerei Queste grosse e potente macchine Beh, prossimo Cadi sette volte Rialzati otto Proverbo giapponese Buonissimo Cadi sette volte Ti alzi Quoto Una volta in più E rimane Prossimo Di Nelson Mandela Le difficoltà Spezzano alcuni uomini Ma ne rafforzano altri E sono sicuro che è il caso Di nostro amico Silvio Berlusconi Prossimo Le difficoltà Spesse preparano le persone normali A un destino straordinario Se quello che abbiamo oggi di Berlusconi È una situazione normale Aspettiamo questo momento straordinario Che vendrà Prossimo Nel mezzo della difficoltà Nascono le opportunità Beh, questa è una frase molto comune Ma è sempre buona ricordare Nel mezzo delle difficoltà Nascono le opportunità Maggiore è l'ostacolo Maggiore è la gloria Nel superarlo Una parola di Mogliere Bravissimo Maggiore è l'ostacolo Maggiore è la gloria Nel superarlo Prossimo Ciò che non ti uccide Ti rende più forte Anche molto comune Frase di Nietzsche Ciò che non ti uccide Ti rende più forte E questo è il finale Che le diciamo Di tutti i cuori Tutti noi gli italiani Le diciamo Silvio Berlusconi Ti desideriamo Tanti auguri Di pronta guarigione Tanti auguri Di pronta guarigione Un saluto Di Forza Italia Ciberspazio E di tutti noi qua Gli italiani Che siamo A attendere La tua guarigione E questo Questo ritorno Grandioso Siamo tutti in attesa Un saluto Di Forza Italia Ciberspazio Voglio anche ringraziare La pagina Frasemania.it Che è la pagina web Dove abbiamo trovato Tutte queste frasi Bellissime Grazie mille Un saluto E qua di Augustin Caccieri Un saluto Ciao 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 c'è Ciao c'è Ciao it� Ciao c'è